In questo secondo video proseguiamo la registrazione delle fatture che l'azienda Astra Studio fa nel mese di aprile. Dopo aver registrato le fatture di acquisto, nel registro apposito, andiamo a verificare le fatture emesse nello stesso mese d'aprile e registrate nel registro apposito. Cominciamo. La fattura 14 è stata emessa a carico del cliente Provincia Spa di Milano, quindi nell'economia dove il riferimento alle fatture deve essere esplicito troviamo il numero fattura 14. A differenza del registro degli acquisti dove esiste un protocollo di arrivo e poi il numero della fattura che è stato, diciamo, assegnato dal fornitore, in questo caso non c'è bisogno di questa doppia informazione perché il protocollo e il numero di fatture in qualche modo coincidono, in quanto che le nostre fatture, le fatture emesse dalla Astra Studio, partono con il numero 1 dal gennaio e via via progrediscono durante l'anno. La data, come vediamo dai dati riportati, è stata emessa il 17 aprile, il cliente e province S.P.A. di Milano, la data di consegna che può essere anche intesa come data di spedizione è il 17 aprile trattandosi di una fattura immediata, l'imponibile è 4,6, l'IVA relativa al 22 è il 1.012. Abbiamo anche degli importi per interessi, 60 euro, noi sappiamo che gli interessi quando vengono addebitati, pur essendo operazioni rilevanti a fine IVA, sono esempi, cioè non si applica l'IVA. E infine abbiamo cauzioni per imballi che sono escluse dall'imponibile, non solo dall'imponibile, ma anche dalle operazioni IVA, in base all'articolo 15 e comunque perché mancano i presupposti, in questo caso il presupposto oggettivo. Ci sono 80 euro che, sommati a tutte le altre cifre che troviamo sulla riga relativa alla fattura 14, fanno un totale di 5.742. Sappiamo di già che il registro delle fatture, man mano che vengono inserite, dei documenti in porta dei totali e andiamo a dividenziare questi totali nelle colonne movimentate. La seconda fattura è la fattura numero 15. Questa fattura però è, diciamo, emessa su un cliente austriaco, quindi è una fattura verso un'azienda facente parte dell'Unione Europea. In generale però la legge IVA, anche se per motivi leggermente diversi, considera le vendite verso l'estero, che siano paesi intra-europei o extra-europei, come non imponibili nella sostanza, cioè rientrano negli obblighi di fatturazione e registrazione ma non si paga, non si applica l'IVA. Questo è per evitare una doppia imposizione. Bene, allora andiamo a inserire il numero della fattura, la numero 15, è del 24. Andiamo ancora a mettere il nome del cliente tedesco-austriaco, la data di consegna o di spedizione, vorremmo dire, è la stessa della fattura trattandosi di fattura immediata. Non abbiamo da utilizzare le colonne degli imponibili, poiché, come abbiamo già detto, si tratta di operazione esente, scusate, non imponibili. In questo caso 7.448 sarebbero gli 8.000 euro che vengono scontati in un primo aumento del 5%, quindi 100-5 fa 95%, su quello che rimane di nuovo un 2%, 100-2 fa 98, 98% e si vede come questo 7.448 venga fuori dall'operazione appena descritta. Non ci sono altri addebiti, quindi il totale dell'operazione è confermata 7.448 e possiamo passare alla nota di credito. La nota di credito che noi dobbiamo emettere, ed è stata emessa il 26 aprile con il numero 2, notate che le note di accredito hanno una numerazione separata rispetto alle fatture, e quindi questa del mese di aprile è la seconda fattura emessa nell'anno. Ora, questa nota di accredito viene emessa perché il cliente provincia SPA ci ha reso della match che per qualche motivo non era conforme all'ordine oppure era difettuosa. Dobbiamo riconoscere quindi questa cifra di 410 euro più IVA. La data di consegna a questo punto non è rilevante, ma sappiamo che le note di credito vanno nella colonna delle variazioni, con il segno negativo perché non sono addebiti ma sono, diciamo, accrediti che noi riconosciamo. L'imponibile è sempre al 22% e ovviamente l'IVA su 410 al 22 dà 90,20. Al solito totalizziamo l'operazione e vediamo come i totali cambiano. Bene, a questo punto non va dimenticato che, come avevamo detto prima, la fattura del fornitore Reinhold Messner, fornitore austriaco, era stata registrata aggiungendo di nostra iniziativa, ma secondo legge, l'IVA. Questa fattura va riportata anche nel registro delle fatture emesse, anche se non è una vera fattura emessa. Quindi i dati devono essere ripresi pari pari e, ovviamente, riportati. Anche in questo caso il totale diventa, come prima, 19,520. Di fatto, cosa succede? Succede che questa fattura per queste merci ha un IVA a credito di 3520 e un IVA a debito di 3520. Il risultato finale, ovviamente, è zero. Un credito meno un debito di pari importo non determina nessun obbligo verso lo Stato. Sta di fatto, però, che poi, quando verrà veramente rivenduta questa merce, allora scatterà l'IVA a debito. Bene, avendo concluso le operazioni sia di acquisto che di vendito, dobbiamo fare una cosiddetta liquidazione mensile dell'IVA. Dobbiamo, in questo schema, riprendere dalle colonne IVA dei due registri di importi. Quindi partiamo dall'IVA cosiddetta a debito, che è quella sulle vendite, cioè dal registro delle fatture emesse. Il totale dell'IVA a debito al 22 è 4532 euro. L'aliquota a 10 in questo mese non è interessata, ma ci sono delle variazioni che hanno anche totalizzato in fondo al registro degli importi. Le variazioni, in questo caso, sono 90.020, con il segno negativo. Quindi l'IVA a debito, formata dall'IVA a 22 meno la variazione di questo mese, è 4.431,80. Che, ripetiamo, non è altro che 4.532, riportate, meno 90,20. Le altre colonne non riguardano l'imposta, ma sono importi imponibili, non imponibili, isenti o escluse. Dobbiamo, però, vedere l'IVA a credito. L'IVA a credito sta nel registro delle fatture di acquisto. Vedremo che l'IVA a credito è quella a 22, a 3.900, quella a 10, di 120. Andiamo a scoprire le carte, già erano state messe in evidenza. Non ci sono variazioni, come si può vedere. Il totale dell'IVA a credito, tra quella a 22 e quella a 10, è 4.129. Quindi abbiamo un IVA a debito di 4.441, un IVA a credito di 4.129. Dobbiamo, però, ricordarci che, dal mese precedente, cioè della liquidazione del mese di febbraio, avevamo rilevato un credito di IVA di 220, quindi non c'era stato nulla da pagare, anzi, in teoria avremmo dovuto farci rendere 220 euro di IVA sul mese precedente. Ma la legge dice che, in questo caso, si aspetta il mese successivo, la si riporta a credito, in modo che si rifà il conteggio. 4.441,80 a debito, meno 4.129,50 l'IVA a credito del mese di aprile, che è il mese di aprile e non di febbraio, come sta scritto qui. Poi abbiamo l'IVA a credito del mese precedente, in questo caso marzo, vediamo che la somma algebrica di tutto questo fa 92,30 euro. Questo importo va versato all'erario entro i 16 del mese successivo, o nel caso specifico, i 16 maggio 2016.